Con 30 ultimi 70 secondi di gara, il francese vuole attaccare in transizione, scarica offrendo il tiro a Niccolò Virginio che metta a bersaglio l'altra squadra che bisognerà sicuramente tenere sotto occhio per la seconda parte dell'anno si vuole segnare a Virginio La squadra è la squadra di Napoli, anche i 6 giocatori che mi ricordano, e qualcuno che sufiisce la lista di strelac Nekada un giocatore di Varese, un nuovo progetto per 3-1, ancora un giocatore di Varese Asistencije, to su Bajola, Lundberg, Bellinelli, Harket e Cotinije Svi grazie che possono giocare in un'organizzatore o playmaker